Musica Hola hola hola, io sono il vostro Capitan Max Berrofronzo Benvenuti, benvenuti, benvenuti Questo qua non è un episodio di World of Warcraft World of Warcraft è semplicemente la location dove io registro questo video per fare un paio di annunci Avrei potuto fare un vlog, solo che io sono molto stanco, sono le 4 del mattino Non ho voglia di farmi una doccia e sono assolutamente impresentabile Quindi, ecco, adesso vi dico un paio di robe che sono successe in questi giorni E un paio di cose che succederanno nei giorni a venire Molto semplicemente, io in questi giorni sono stato via Sono stato a Torino, sono stato a trovare degli amici Per un viaggio che avevo già programmato da un sacco di tempo E mi sono molto divertito e ho fatto delle cose Questa cosa mi ha portato lontano da Trieste per il 7, l'8 e il 9 di questo mese E una volta ritornato a casa, dato che avevo distrutto completamente la mia volontà La mia voglia di vivere e qualunque mezzo necessario per poter sopravvivere Mi sono semplicemente riposato e quindi ho evitato di fare video su, come cacchio si dice, su Youtube O di fare live su Twitch Il punto qual è? Che io in questi giorni sono riuscito a fare veramente poco Per stanchezza, per cose, per storie, insomma, non vi sto neanche a raccontare Fatto sta che ho avuto veramente poco tempo Tornato da Torino, è successo che io ho detto Bene, sapete che cosa? Adesso ritorno a fare le cose in bomba, eccetera, eccetera, eccetera Solo che il signor V-King, Simone, insomma, comunque voi probabilmente lo conoscerete Per qualche cosa che è successo su Twitch Mi ha detto Max, ma tu verresti mica al Games Week? E io ho detto Caro amico, io verrei molto volentieri al Games Week Ma io non ho i soldi Al che lui ha detto Caro amico, non è necessario che tu ti preoccupi per i soldi Perché io posso fare un, come si dice Uno streaming con un donation goal E se ci sono abbastanza donazioni per i soldi Per poterti mandare al Games Week Allora io ti do tutti quanti i soldi derivanti da questa Da questa streaming che noi facciamo insieme E tutti quanti i provetti te li do in maniera tale che tu possa venire al Games Week Incredibilmente, grazie alla generosità del signor Randall84 Del quale io ho già parlato in un intervento su Facebook un paio di giorni fa Perché è il suo compleanno E ad Enrico Che è il nostro team manager Game manager, non so bene quale sia tipo il suo titolo ufficiale Perché io sono un disastro con queste cose La gran parte praticamente di questo goal è stato riempito Quindi per cui io effettivamente verrò al Games Week questo venerdì Dovrei riuscire ad arrivare nella mattina Dovrei riuscire a mettermi a posto per quanto riguarda la sera Ma adesso dovrò un attimino parlare con Serghi e altre persone Perché non ho assolutamente idea di dove dormirò Né di che cosa mangerò Sono solamente che io riuscirò ad arrivare all'interno di Milano Per venerdì Ci starò tutto quanto il sabato E la domenica, la domenica sera dovrei ripartire Ma devo ancora mettermi d'accordo con le persone Il fatto sta che sarò presente al Games Week A quanto pare per tutti e tre i giorni Vi ripeto di nuovo L'ambito organizzativo è ancora in alto mare Però questo qua dovrebbe essere quello che devo fare in questi giorni Logicamente al di là però del Games Week Io ho anche da organizzarmi per quanto riguarda Lucca Che è effettivamente due settimane dopo Per quanto riguarda Lucca Io di nuovo sono in alto mare con i soldi Quindi ovviamente io non posso sempre abusare della generosità Del signor V-King che mi invita nel suo streaming E sfrutta la sua visibilità Per farmi raggiungere le donazioni Io devo anche riuscire a streamare Devo anche riuscire a fare uno spettacolo Per mio conto in maniera tale da poter prendere abbastanza soldini Per poter effettivamente arrivare a Lucca Vi invito quindi con più forza del solito Dato che effettivamente in questo periodo non è bisogno A mettere il follow sulla mia pagina di Twitch Che la trovate in descrizione Twitch è semplicemente un posto dove io vado Esattamente come su Youtube A fare dei video A fare le live A essere semplicemente in diretta Mentre io gioco a Airston Gioco a World of Warcraft Gioco a tutto quanto quello che volete voi E interagisco con voi per mezzo di una chat Quindi venite cazzo a parlare con me A giocare insieme a me Perché io ho piacere E logicamente se qualcuno di voi è ancora generoso Abbastanza da poter dare un paio di dirette Anche due euro vanno benissimo In maniera tale da facilitare il mio percorso Per andare effettivamente a Lucca Questa cosa non può farmi che piacere Quindi per cui Sono andato a Torino per i cazzi miei Spendendo veramente un'inezia Perché già era tutto quanto pagato da mesi Sono riuscito ad avere la possibilità Di andare al Games Week Quindi io ci sarò tutti e quanti e tre i giorni E se volete io in questi giorni sto streamando veramente un casino E mi dispiace se non ci saranno tanti video su YouTube Passate sul mio canale di Twitch Vi prego Venite a divertirvi con me Voi sapete che comunque sia io sono in live Ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica A partire dalle 16.30 Venite a supportarmi Mi fa un sacco piacere se ci siete In ogni caso se volete c'è anche l'indirizzo della mia pagina di Facebook Quindi se avete dubbi, perplessità, cose Voi mi potete scrivere anche lì In maniera tale da fugare ogni tipo di dubbio E considerato che non l'altro è rimasto a dire Dal vostro capitano Max Berrofronzo Ci vediamo in un po' di fiere A caso in questi giorni Su Twitch E quindi basta Adios a todos A presto